raga vi faccio vedere tu che io che me so costruito con tutta roba rimediata se viene qua se parcheggia la macchina tac vieni qua se apre la porta tutta robetta rimediata allora qui c'è sta l'angoletto cottura qui c'ho fatta la stufa questa è la copertura eccola questa è la stufa c'è cucina pure sopra salottino fatto con i petani di legno divanetto fatto sempre con legna rimediata tavolino per mangiare questo diventa da sei qua ci metti i vini quando viene gente impiantino stereo col televisore ci ho fatto grafico diffusione ci ho messo sei casse tac scusate se balla un po' e qui ci ho fatto la sbraceria non faccio le montagne raga guardate che spettacolo piano cottura barbecue fatto sempre con buco roba rimediata qua ci cucini un uo son cristiano e il tuburio di aglioio il tuburio di aglioio è una grande cosa raga grande festa qua dentro se potessero parlare queste pareti tutto apposso e poi c'è casa poi la faccio vedere casa raga